Qual è il punto di vista del medico di medicina generale per quanto riguarda la dimissione e la presa in carico del paziente diabetico? Lo abbiamo chiesto al dottor Gerardo Medea in occasione dell'Italian Barometer Diabetes Forum 2012, il quinto summit nazionale sul diabete in corso a frascati. Dottor Medea, qual è la posizione della SIMG per quanto riguarda una corretta gestione del paziente con diabete alla dimissione? Beh, bisogna innanzitutto precisare che il paziente diabetico non presenta particolari caratteristiche, particolari problemi alla dimissione rispetto ad altri pazienti che hanno attraversato una fase di acuzie. Tutto ciò premesso, bisogna dire che un altro problema importante non è tanto il ricovero in sé, quanto piuttosto i ricoveri inappropriati delle persone con diabete. Alcune indagini istat recenti hanno evidenziato che è ancora alta in Italia la percentuale di ricoveri inappropriati, cioè di persone con diabete che sono ricoverate per eventi acuti ma non legati a complicanze del diabete stesso. Ecco, su questa quota di ricoveri si può intervenire e quindi anche nella fase post dimissione si può intervenire efficacemente attraverso una rete di servizi che agisca sia nella fase di pre ricovero, per evitare i ricoveri inappropriati, sia nella fase di post ricovero. In buona sostanza il paziente deve essere all'interno di una rete di servizi, di una rete come noi diciamo a maglie molto strette, in maniera che il paziente sia in carico sia prima del ricovero, sia dopo il ricovero, attraverso chiaramente una stretta integrazione, una stretta relazione di attività sul territorio tra i medici di medicina generale e i centri diabetologia. Evidentemente se il paziente è in carico sia prima che dopo, da un lato ci saranno meno ricoveri e dall'altro appena il paziente uscirà dall'ospedale sarà preso in carico dalle strutture territoriali e questo eviterà naturalmente nuovi ricoveri e nuovi accessi impropri al pronto soccorso. Dottore, qual è la posizione della Simge nel contesto dell'Italian Barometer Diabetes Observatory? Noi riteriamo che all'interno di questa importante attività che si è venuta a determinare, questa associazione di società scientifiche che operano all'interno del Barometer, la società di medicina generale possa apportare un contributo determinante per quanto riguarda le idee di riorganizzazione dell'assistenza diabetologica sul territorio. L'Italia sta attraversando un periodo abbastanza complicato, ci sarà a breve il patto della salute da approvare nel patto Stato-Regioni, nella conferenza Stato-Regioni e sicuramente ci sarà una contrattura di risorse finanziarie e quindi bisognerà fare i conti con meno risorse e quindi con meno servizi, messi a disposizione ai cittadini. I cittadini saranno chiamati sicuramente a fare una compartecipazione nelle spese del Servizio Sanitario Nazionale e quindi è fondamentale trovare spazi per ridurre spese e costi inappropriati. In questo senso è importante arrivare ad una riorganizzazione dei servizi territoriali, quindi sia dei servizi di diabetologia, che devono diventare strutture di secondo livello fortemente organizzate per poter prendere in carico i pazienti complessi, dall'altro lato ci deve essere una medicina in generale, anch'essa fortemente organizzata, strutturata, in grado, supportata da personale amministrativo e personale infermieristico, in grado di prendere realmente in carico le persone con diabete. Soltanto attraverso questa riorganizzazione, una forte relazione, una forte interazione fra questi due livelli di assistenza, sarà possibile realmente prendere in carico le persone con diabete e ridurre sia le complicanze, sia i ricoveri inappropriati e una buona assistenza anche dopo la dimissione del paziente.